Per la Cremonese è arrivato finalmente il momento di ricominciare. Il centro Arvedi si rianima, spinto da un rinnovato entusiasmo e dal sorriso con cui i protagonisti si preparano ad affrontare la nuova stagione. Poco prima delle quattro si aprono i cancelli e fa il suo ingresso nel centro il nuovo pullman ufficiale della squadra, logato US Cremonese, quasi a simboleggiare che sta per cominciare un nuovo ciclo, quello legato al nome di Michelangelo Rampulla. Ed è proprio l'ex portiere Grigio Rosso, oggi presidente, a prendere per primo la parola per presentare tre dei volti nuovi a disposizione di Mr. Tesser, Luca Bellingheri, Giuseppe Gemiti e Simone Salviato. Gemiti, difensore tedesco di origine italiana, è il più anziano del gruppo, ha 35 anni ed è pronto a mettersi in gioco con tutto il suo bagaglio di esperienza, conoscendo già il gioco di Tesser. È stato uno degli artefici della scalata del suo Novara dalla Lega Pro alla Serie A. Noi siamo venuti tutti qua con grande entusiasmo perché sappiamo quello che vogliamo raggiungere e quello che vuole raggiungere la Cremonese e quindi sicuramente metterò tutta la mia esperienza in questa squadra e cercare di dare anche una mano magari ai più giovani. Anche Luca Bellingheri arriva da campionati di categorie superiori. Centrocampista, classe 1983, ha disputato oltre 330 partite tra Serie A e Serie B, mettendo a segno 54 reti. Sicuramente anche parlando con loro carichi e vogliosi, non guardiamo la categoria, adesso guardiamo che siamo la Cremonese e daremo tutto per la maglia. Poi dopo cercheremo di portare la Cremonese in alto, quello di sicuro. Simone Salviato, il più giovane dei tre, un esterno di 29 anni che nell'ultima stagione ha vestito la maglia della Virtus Lanciano in Serie B. Conosce bene sia Gemiti che Bellingheri con cui ha giocato a Livorno nella stagione 2012-2013. Ci hanno già accolto molto bene e noi abbiamo entusiasmo di far bene, abbiamo voglia di iniziare soprattutto e speriamo di andare avanti così, lavorando bene anche in ritiro, per prepararci al meglio prima alla Coppa Italia e poi al campionato. L'entusiasmo di tutti è palpabile, ma ora è necessario che con il loro gioco riescano a contagiare anche il popolo grigiorosso. Abbiamo cercato di tenere i prezzi bassi, però i prezzi bassi non vuol dire che la qualità del gioco o della squadra sia bassa. Noi cerchiamo di tenere i prezzi contenuti ed è mia premura fare questo, nel senso perché io penso che è giusto riportare, visto che manca l'entusiasmo, come diceva giustamente Bellingheri, cercheranno loro col gioco, con le vittorie, di riportare la gente allo stadio e noi metteremo a disposizione lo stadio senza far spendere tanti soldi alla gente. 50 euro in curva, credo forse ci paghiamo soltanto la SIAE. Grazie 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 a tutti.